Musica Ma io vi ho sempre promesso il focus per i glutei e questa promessa non l'ho mai mantenuta e quindi pensavo facciamo un focus glutei facciamo 30 minuti di quadrupedia l'Alessia dice di sì anche la Rossella dice di sì e la Daria vi guarda male loro dicono di sì e la Daria invece si gira e guarda male dai dai 30 minuti cosa saranno mai 30 minuti di quadrupedia? così? no non preoccupatevi magari domani non vi sederete più magari domani potrete stare sotto i piedi però sarete così fatte get ready 4 stop pronti pronti semplice semplice da qui salgo e scendo e per rendere il tutto più interessante se volete potete prendere un pesetto vedete voi su adesso lo messo male su giù e qui rest vi faccio cambiare la gamba perché 30 minuti sono lunghi quindi anche se non lavoriamo sempre con la stessa gamba va bene ugualmente 2 vado salgo scendo 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ancora 3 1 list 3 3 2 1 3 2 3 4 5 6 7 8 ancora su e su e su 2 1 wrist 2 1 e voi direte quanti esercizi ci sono di quadrupedia tantissimi e io li so 3 2 1 e qui lato su qui su e su e su 3 2 1 rest 3 3 cambio gambezza e riprendo l'esercizio di prima quindi salgo e scendo 1 2 3 4 5 6 7 7 8 8 e ancora 8 7 3 2 1 rest cambio 3 2 1 e vado 1 giù 1 2 3 4 5 5 6 7 8 3 2 1 rest cambio e laterale 3 2 1 vado 3 3 2 1 rest 3 2 1 rest lato 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 qui su 3 2 1 3 2 1 appoggiamo il pesetto, strecciamo un salto e ci mettiamo con la schiena a terra questa volta apre e chiudo, qui, solo apre e chiudo e aspettiamo la prossima serie 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 Tre, quattro, su e su. Continuiamo, ho deciso di togliere questi dieci secondi, così diventano trenta. Cambio gambezza, su e su, qui, altrimenti dieci secondi di recupero ci mangia tutto il buono, su, poi la Stefania streccia troppo, e continuo. Cambio gambe, questa volta parte tesa, sale tesa, ritorna tesa, su e su, sempre tesa e il piedino tocca terra, spiora terra tutte le volte, su e su. Chiaramente si prosegue, su e su, perché non servono dieci secondi per... E cambio, qui, su, non servono dieci secondi per cambiare gamba, eh. Su, su e continuo. Resto, no, no, che resta, che resta, no resta, no resta, no resta. Cambio e... Pieno estendo. Otto, su e salgo, su e prosego. Procedo. 3, 2, 1, resta, continuo. Continuo, no rest, no resta, su e... 3, 2, 1, work. Cambio gamba, su. Come vanno i glutei? Si, ci sono ancora venti minuti, qualcosa in più forse, anche 22 quasi. Ma non preoccupatevi. 3, 2, 1, resta. Continuo. 3, 2, 1, work. Gamba tesa, solo tesa. Su. 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 E... Su. Su. Qui. Su. 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 Due. Tre. Quattro. E spiaviglia gamba. Su. Su. E salto, su, 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 su. 3, 2, 1, completed tabata timer. No, ce ne erano 5, 2, 3, 4 e 5, stop, rilasso e nell'attesa che arrivi il prossimo ci mettiamo comodi comodi. Siamo pronti. In ginocchio, gamba tesa, piede stendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 6, 6, la gamba non deve calare, lì è e lì rimane, proseguo, qui, cambio, adesso, on, continuo, calci calci, e proseguo, qui, cambio di abbezza, e salgo, molletto, non ce la facciamo? Siamo quasi a metà strada, eh? Proseguo, cambio, molletto, 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 3, 2, 1, rimanco, 3, 2, 1, cambia, cambio, gamba tesa, stia mettendo, Cosa le dici? Cosa le dice la tavola? Ma non è vero? Ma non è vero? Non è vero? Io l'ascolto, quando dice start, io non ascolto il rest, ma lo start sì, 3, 2, 1, work, cambio di abbezza, vado e Rimango, si confonde la signorina, vuole dire rimango, dice rest, ma vuole dire rimango, quella gambetta che cala, vedo una gamba che cala, Vedo una gamba che cala, invece non deve calare, deve rimanere su questo gluteo E pensate che questi sono i classici, sono i classici, dopo ci sono gli alternativi, E sì che dopo ci sono gli alternativi, perché i classici li ho finiti, dopo ci sono gli alternativi, Ancora ora, 2, 3, 4 e 5, allunghiamo, siamo a metà strada, sono glutei, erano 30 minuti solo di glutei, solo quadrupedia, Via, perché l'avevo promesso, l'avevo promesso e le promesse si mantengono, Da qui, alterno, stesso, stesso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Tutti due, su, su, e su, 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 qui. Su, e su, su, qui. Dopo partiamo con uno che scioglie. Su, qui, e alterno ancora. Stendo, stendo, su, su, otto, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, otto, get ready. Partiamo con uno che scioglie. Da qui, calcio, 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 e scioglie. Qui, calcio, e quindi questo non sale, ma semplicemente calcio dietro. Calcio, e qui, calcio. Continuo, perché questo scioglie. E calcio laterale. Qui, lato, lato, stessa gamba. Qui, e lì. Calcio, calcio. E qui, su, lato, 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 lato. Cambio gamba. Ah no, ma no, giocheresti. Cambio, qui, e voi non ditemelo, eh, che era, che il rest voleva dire vado avanti. E rest continuo. E adesso sarò più cattiva, visto che voi non mi avete detto che ho sbagliato. Lato, e calcio di lato. Qui, lì. Lato, lato, lato. E... 3, 2, 1, wrist. Ancora. 3, 2, 1, wrist. E cambio. Qui, calcio, calcio, calcio. Qui, dietro, dietro. Qui, qui, lì. 3, 2, 1, wrist. Continuo. Lo faccio per il vostro bene. Solo pensando ai vostri glutei lo faccio. Lato, lato. Lato, lato. Lato, lato. Lato, lato. Avanti, lato, lato. Lato, 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 lato. Lato, 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 lato. E mani. 3, 2, 1, wrist. No, 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 ma resta vuol dire resta in movimento. 3, 2, 1, wrist. Cambio. Qui. Dice proprio resta. Continua. No, resta nel senso di continua. Resta con quello che stai facendo. Così lo dice. 3, 2, 1, completato. Ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Ora vi lascio rilassare un attimo. E visto che prima vi è sfuggito, che avevo sbagliato, adesso facciamo questo. Adesso facciamo questo, guardate. Salgo, incrocio, salgo, scrocio. Get ready. Get ready. Questo brucia un po', brucia un po'. 3, 2, 1, 2, 1. Ora vado. E salgo, incrocio, salgo, scrocio. E... Pensate che adesso mi stanno venendo in mente un sacco di esercizi. Che mezz'ora non basta. 3, 2, 1, wrist. Continuo. Altro che resta. 3, 2, 1, rest. 3, 2, 1, rest. 3, 2, 1, rest. Continuo. 3, 2, 1, rest. Ok, adesso lo stesso, con lo slancio, incrocio, slancio, torno. So, incrocio. So, qui. C'è sempre l'incrocio, eh. Incrocio, ma questa volta slanciando. Slancio. Qui. E... 3, 2, 1, rest. Continuo. Bisogna tradurre bene il senso di questo rest. Vado. Cambio parte. Solo piegata. 3, 2, 1, rest. Continuo. 3, 2, 1, rest. Cambio. Solo piegata. Qui. Solo piegata. Incrocio, scrocio. Incrocio, scrocio. 3, 2, 1, rest. Continuo. Come vanno i glutei? 3, 2, 1, work. Cambio gamba. Qui. 45 minuti erano fattibilissimi, eh. 3, 2, 1, rest. Adesso, la prossima volta, faccio 45 minuti di ponte. 3, 2, 1, rest. Ma non la prossima, la prossima, eh. Non lo dico prima. Forza! Eh? Sempre per i glutei, ponte inverso. Non lo dico prima, chiaramente è sorpresa. Non lo dico prima, non lo dico prima, non lo dico prima. Continuo. 3, 2, 1, rest. E cambio gambezza. Ha detto rest, però. Vero? Aveva detto rest. Ha detto work? Non è vero. Non è vero. 3, 2, 1, rest. Ok, è vero, avevi ragione. Ne facciamo ancora 5. 4, 3, 2, 1, rest. Ci rilassiamo un attimo. 4, 3, 2, 1, rest. Get ready. Get ready. Adesso. Passiamo. 3, 2, 1, rest. Prima verso l'esterno. Quindi verso l'esterno. Inizio con portare il ginocchio verso l'esterno. 3, 2, 1, rest. Continuo. Siamo alla fine. Cambio. Vado verso l'esterno. Esterno. 3, 2, 1, rest. Continuo. 3, 2, 1, rest. Ed ora verso l'interno. Prima abbiamo fatto verso l'esterno. Ed ora verso l'interno. Come va? Benissimo. 3, 2, 1, rest. Continuo. Continuo. 3, 2, 1, rest. Cambio gambezza. Verso l'interno. Interno, interno. Interno. 3, 2, 1, rest. Continuo. 3, 2, 1, rest. E cambio. Verso l'esterno. Volete mica fare una serie? Forza. In più si alterna. Vi avessi fatto fare 15 minuti dalla parte e 15 minuti dall'altra, ma così. Continuo. Su queste gambe. 3, 2, 1, rest. Cambio esterno. Manca pochissimo. Non posso fermarmi adesso. Non posso fermarmi adesso. 3, 2, 1, rest. Continuo. Cambio e verso l'interno. Vai, questo vi faccio fare proprio 20 secondi e vi faccio recuperare tra l'una e l'altra. Su. Sembra che abbiate i glutei doloranti. 3, 2, 1, rest. Dai, andiamo avanti. Mica possiamo all'ultimo. Forza, forza. 3, 2, 1, rest. Cambio e vado qui. 3, 2, 1, rest. 3, 2, 1, rest. Ancora 5, 4, 3, 2, 1, rest. 3, 2, 1, rest. E' solo oggi che mi sono accanita con i glutei. No, no. Colpa della giornata. Le note sono passate. Non servono a nulla. Mento al petto. Adesso devo fare un'ora di spinning. Chissà se mi siedo sulla sella. Salgo. Piano piano srotolo la corona. Vi tremano i glutei? Se non mi tremano potremmo fare un quarto d'ora in più. Respiro e fuori tutto giù. Bravissimi. No, 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 no.